Un operaio di 23 anni si è ferito a una mano e rimasta schiacciata all'interno di un macchinario durante il turno di notte. L'incidente è avvenuto intorno alle 3.30 alla cartiera Santa Gemma di Via del Brennero a Lucca. Il giovane è stato portato in ambulanza in codice rosso per dinamica all'ospedale Cisanello di Pisa. Sul posto sono intervenute l'automedica e un'ambulanza della Croce Verde di Lucca. Si tratta del secondo incidente in pochi giorni in cartiera, dopo quello di Villa Basilica, dove un uomo è precipitato da un trave mentre lavorava per smontare parte del tetto di un capannone. Nel 2024 la Toscana ha registrato un aumento significativo degli incidenti sul lavoro. La regione è in fascia di rischio arancione per infortuni fatali, 12 nei primi 5 mesi dell'anno, tutti avvenuti in orario di lavoro.